esplora amici ciao sono febe la vostra fantastica inventrice preferita che ne dite vi piace a me tantissimo e sapete chi altro indossa un cappello come questo esatto è ritley johns la fantastica eroina di netflix junior vero carina mi piace adesso sono pronta ad andare ma non ci vai da sola carina noi veniamo con te davvero ovvio ti servirà una bella guardia del corpo bisontica troppo forte ma quanto deve essere bello vivere in un museo in cui tutto di notte prende vita io giocherai tutto il tempo altro che dormire tra mummie animali fantastici antiche civiltà ho un'idea perché non raggiungiamo ridley e balliamo con lei usiamo il fantastic flicks venite con me vi ricordate come si usa basta spostare la lancetta sul mondo che vogliamo raggiungere ecco fatto coraggio finalmente qui possiamo scatenarci nel museo ci sono un sacco di posti da scoprire ad esempio la pianura del serengeti l'antico gitto il polo nord e io ho preparato un balletto apposta per voi siete curiosi di vederlo iniziamo in un mondo incantato che ti sorprenderà c'è un prezioso alleato che al tuo fianco sarà il passato un tesoro che con lei scoprirai e vivrà un avventura più grande che mai ridley jones piena di forza e coraggio ridley jones tutto al sicuro con lei ridley jones siamo all'inizio del viaggio che con nuovi incredibili amici condividerai ridley jones non toglie mai il cappello ridley jones gli ostacoli supererà niente al mondo fermarla potrà prenderà nelle difficoltà con valore e realtà tutto risolverà ridley jones super divertente vero rifacciamolo in un mondo incantato che ti sorprenderà c'è un prezioso alleato che al tuo fianco sarà il passato un tesoro che con lei scoprirai e vivrà un avventura più grande che mai ridley jones piena di forza e coraggio ridley jones tutto al sicuro con lei ridley jones siamo all'inizio del viaggio che con nuovi incredibili amici condividerai ridley jones non toglie mai il tuo cappello ridley jones gli ostacoli supererà niente al mondo fermarla potrà prenderà nelle difficoltà con valore e lealtà tutto risolverà ritley jones mi sono divertita un mondo amici ci vediamo alla prossima puntata ciao